Scusate il ritardo Siamo molto contenti che ci siate tutti Grazie per essere venuti da ogni parte d'Italia per partecipare al matrimonio che non si farà Guarda, ascoltami perché te lo chiederò solo una volta Davide è Gesù No, 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 Davide non è Gesù Gesù è morto duemila anni fa, Gesù non c'è più e quindi Davide è Davide non è morto e non risorge tra tre giorni Davide sta facendo sesso con un'altra Ma come reagisci? Ma sei pazza? Sei pazza? Io non sono pazza, io sono stanca, stanca! Io non sono pazza! Sono stanca, cazzo! Va bene, va bene, va bene, non sei pazza, va bene Ma a te ti pare normale che uno ha una giornata difficile? Una volta e arriva uno e gli dice e gli dà addosso il lavando affanculo! Perché? Sono solo stanca! Basta! Va bene, va bene Io non sono pazza! Ho avuto una giornata difficile e basta La prima volta sulla spiaggia non c'era nessuno l'abbiamo fatto lì Lui aveva messo su una capanna di teli eravamo con tutto il sale addosso aveva preso una foglia e me la passava su tutto il corpo fino giù Poi ci si era messo a soffiarci sopra e io ho sentito che mi stava scoppiando il cuore Così gli dico Ma tu non parli mai?